Eccomi qui gente, dopo qualche giorno, sono malato, mi son beccato il covid, ho un po' di febbre, la voce un pochino bassa, ma ci provo, voglio ritornare a fare qualche cosa per voi, insomma quindi una mini toppettina oggi, benvenuti su WatchMoge Italia, si parla di cinema, si parla di 5 storie, e magari ovviamente ci saranno dei seguiti perché non sono soltanto questi 5 i film della durata di produzione più lunga, appunto 5 film in questo caso che hanno preso più tempo per essere portati a compimento, ma si parla di decenni, storie allucinanti, e curiosità dietro le quinte che spero vi possano interessare, ma prima di tutto mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati, perdonate il mio tono di voce un pochino più basso oggi, ma comprendetemi, e se volete fate un salto sul mio profilo ista qua sotto, se vi va alla numero 5 direi di iniziare con Pakiza, per Pakiza ci sono voluti 16 anni, e preparate i fazzoletti, iniziamo da una di quelle lacrime strappastorie nel 1955, il regista indiano Kamala Amrohi, innamoratissimo di sua moglie Mina Kumari, che venerava come una dea, decise di fare un film che fosse una celebrazione della sua passione nei confronti della moglie, che doveva essere anche protagonista della pellicola stessa, da quello che raccontava scrisse ogni battuta pensando a lei, ogni scena pensando a lei infiammato, dal più puro degli amori, lo confermò in interviste, documentari sui dietro le quinte, travolto da questa passione per il cinema, per la sua compagna, fino a che nel 1964, lei non lo lasciò, no poverino, si separarono per incomprensioni, e lei, povera però, tra l'altro, si ammalò di cirrosi, ma lui non perse le speranze, e continuò a chiamarla, a mo' di Mina, ti prego, soltanto tu puoi essere te, nel mio film su di te, ti prego, e alla fine lei, anche se malata, nei suoi ultimi mesi di vita accettò, facendo la pace con lui, e i due portarono a termine il progetto, che tra l'altro, venne anche criticato piuttosto bene per l'epoca. E alla numero 4, Coffee and Cigarettes, 18 anni, non per inadempienza o difficoltà, ma semplicemente perché è venuta alla fine l'idea di farci un film, come nel 1986, infatti, al mitico Jim Jarmusch, del quale vi consiglio tutta la discografia, si, la discografia, buona nota, la filmografia, il Saturday Night Live Show chiese di girare un corto a tema comico sul caffè, e presi due attori, tra cui un giovane Benigni, notate, li fece dialogare in modo surreale sul nulla attorno a questo tavolo, molto carina come idea. Due anni dopo, per divertimento, con Steve Buscemi e un altro paio di attori che erano con lui mentre giravano il film Mystery Train, nel tempo libero a Memphis, girò un secondo corto, sempre così per ridere, attorno a un tavolo e due caffè. Poi arrivò il turno di Alfred Molina, due anni dopo un altro con Cate Blanchett che parla con sua cugina, che è sempre Cate Blanchett, e alla fine, nel 2003, sempre Jarmusch disse, ma sai che? Che cos'è tutto questo lavoro sprecato, buttiamoli tutti quanti assieme e facciamoci un film che non abbia una conseguenzialità logica, ma che risulti comunque geniale. E infatti così fu. Alla numero 3, l'uomo che uccise Don Quixote. Altri 18 anni, Adam Driver e Jonathan Price sono rispettivamente un sancio e un donkey shot della mancia tra il fittizio e il reale, in un metafilm passato sotto i riflettori che vi consiglio di vedere perché è bellissimo il delirio finale nel castello. E quanto di più Brasil si sia mai visto negli ultimi anni è infatti Terry Gilliam, il regista Poruomo, che ha provato a far partire le riprese di questa pellicola per 8 volte negli ultimi 20 anni, ma per 5 non è riuscito a trovare i fondi. In un caso, trovati i fondi, con i soldi però tre attori abbandonarono il cast per malattie, quindi tutto andò a mondo. In un ultimo aveva i soldi, aveva gli attori, ma non aveva il culo. Perché nell'ultimo tentativo, prima di quello buono, un allagamento nel luogo di produzione, sempre in Spagna, distrusse quasi tutta l'attrezzatura della troupe. E quindi direi altro che combattere contro i molini a vento, il poor Gilliam dovette combattere contro letteralmente qualunque cosa, dal vil denaro al capitalismo all'elemento, però alla fine ce la fece. Tirando fuori un film molto lungo che a tratti può risultare, diciamo, intellettualmente un po' peso, però un capolavoro a suo modo. Alla numero 2, 20 anni dopo. E direi che un titolo più azzeccato di questo non poteva esserci per un film che inizi nel 64 e finisci, beh, 20 anni dopo. In realtà c'è ben poco da ridere, perché il film di Edoardo Coutinho partì con l'idea di essere una denuncia sociale basata su fatti di cronaca e sull'omicidio di un esponente del Movimento Popolare dello Stato del Paraiba, in Brasile. Unico problema, nel 64 accadde quello che si criticava nel film alla massima potenza, però. Un colpo di stato militare portò al regime della dittatura militare che perdurò in Brasile fino all'85 e tutta la troupe, in quel caso, fu arrestata. Fu soltanto nell'86 che allora, con un seguito cult, gente che si ricordava delle riprese e finanziamenti che arrivarono da vari fronti, Coutinho riuscì a completare le riprese già fatte all'epoca con interviste che chiaramente vennero fatte col seno di poi, quindi anche molto interessante dal punto di vista storico-culturale, divenne più un documentario che un film, ma comunque molto interessante da recuperare. Non so se c'è anche in italiano, però di sicuro trovate sottotitolato. E alla numero uno concludiamo con Terra Bassa, Tiflant. Altri vent'anni, siamo in Germania, nel 1934 un film inizia, ma qualche anno dopo, mentre la sceneggiatura a tema vita popolare sui Pirenei sta ancora venendo scritta, si interrompe perché, beh, scoppia una cosetta chiamata seconda guerra mondiale. In realtà non ci sarebbero stati nemmeno troppi problemi di finanziamenti, perché la regista in questo caso non era una persona qualunque, ma Leni Riefenstahl. Chi era Leni Riefenstahl? Beh, sotto il regime di Hitler, sapete, c'era Goebbels che gestiva tutta la principale industria di cinema del partito propagandistico, ovviamente. Lei era quella che gli faceva competizione, ma non ovviamente sul fronte opposto politico, no, cioè era sempre mega nazistone propagandistico anche il suo di cima. È solo che ci mise un po' a convincere Lado al fa dargli i fondi per fondare la sua di casa produttrice e con la Riefenstahl film iniziarono dunque i lavori su questa pellicola della storia orribile. Pensate che siccome il Führer chiese di avere una maggiore credibilità per le riprese in Spagna, le comparse furono persone di etnia Sinti e Rom prese dai campi di prigionia e forzate a recitare per poi essere rispedite ai lavori forzati o nei campi di sterminio, fatto del quale la Riefenstahl si è sempre detta ignara. Ovviamente la verità non si saprà mai, però certo, se tu mi giri film per il Führer, diciamo che non è che io ti possa dare tutto sto beneficio del dubbio, no? E allora, spero vi siano interessate queste 5 curiosità molto raccontabili direi. Condividete il video con tutti i vostri amici in caso ci vediamo domani per una prossima top. E perdonatemi ancora veramente il tono di voce che tra l'altro temo che durante il video si sia andato anche pericolosamente abbassato. Mano a mano che parlavo non ci posso fare niente raga, mi dispiace, ci ho provato. Abbiamo fatto la top Asmara oggi, eh? Le faccio così questi giorni le top.